Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui con un nuovissimo video, lo so ragazzi è da tantissimo tempo che non porto video sul canale perché ho avuto alcuni problemi e poi un pochino mi scocciavo, ma lasciamo stare questo piccolo dettaglio oggi andremo a portare finalmente per la prima volta Rainbow Six Siege PS5 versione PlayStation 5 e allora il grilletto partirà un poco, che ragazzi guardate ho detto tutto, questo è il best di controller va bene ragazzi andiamo subito al video, let's go! ok ragazzi eccoci qui, andiamo subito, multi giocatore, partita veloce dai dai, sono super super carico, play, casuale ragazzi, ok ok, eh, eh, allora pompa ci sta vai andiamo così, andiamo così eccoci qui finalmente dopo 3-4 ore andiamo subito a partire comunque se avete visto i miei capelli stanno diventando di nuovo normali, demonio, va bene allora ragazzi mi devo abituare, un secondo con i tasti ho la sensibilità a vedere dove va bene eh va bene, va bene, va bene grazie, mi è blindato fuori ma sei un king no, è inutile che ce lo metto qua aspetta, voglio un po' un piccolo buco, ecco così dai, appena qualcuno entra subito, pam pam pam, lo spariamo proprio dritto, dritto nell'anima dai dove stanno sparando da dietro? ragazzi ho paura mi sto mettendo troppo paura attenzione dai, ah, con calma, vieni, vieni vieni, misero, pezzente, pezzo di fango vieni subito, immediatamente, prima che spacco la tv ecco, ho spaccato tutta la tv con un colpo dai, dai vamonos, venite quando volete no, raga eh, non lo so scherzo, scherzo sta lassù attenzione ecco qua ragazzi, la mia mira fa schifo all'anima dove, 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 ah, non mi dire al piede di cacca dai, il piede di cacca mamma mia, mamma mia, mamma mia, raga mamma mia, è veramente, veramente incredibile ah, vediamo un po' dove andiamo casuale oh, siamo warden dai, ci sta la città andiamolo a provare un po' oh, andiamo no, ho preso il pompo eh, mi sono confuso porta sicura vabbè, eh, cosa facevo con questo qua? non mi ricordo non mi ricordo minimamente qual era la sua abilità benissimo ho usato l'abilità che non sapevo cosa servisse questa abilità va benissimo no, raga, comunque il grilletto è una cosa fighissima fighissima, proprio fighissima dai, spacchiamo la tv, la nostra tv che non serve un caspiterina di niente qua blindano sempre allora, sposto, ti sposto e tengo un pompa che in ogni squarto pure la mamma tra poco ecco qua, io ho squartato la mamma io ho squartato l'anima è il contrario dai, dai, dai fatti vedere, pezzo di fango fai un piccolo foro un piccolo foro bravo dai, dai ho detto un piccolo foro non tutto il foro ma sei stupido tengo in squadra uno stupido grande dai che è una partita ce l'abbiamo persa mannaccio la miseria oh, dai, dai va bene eh, insomma pari tre pari si poteva fare di meglio dai, ti prego raga perché round è perso? l'obiettivo non è stato protetto raga, che cacchio avete fatto? ma chi tengo in squadra? ma chi tengo in squadra? gli stupidi della situazione proprio quelli che non sanno giocare minimamente come me ma quelli sono piccoli dettagli va bene allora prossima partita mi stava cadendo eh eh, vabbè mi sta cadendo tutto mi sta cadendo l'anima Jackal già ragazzi che siamo Jackal Jackal come si chiama lui 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 YANA ok YANA ci sta ci sta ci sta 0 ragazzi 0 mi manca 0 è fighissimo come personaggio raga mi mancava pochissimi soldi d'oro per prendermi un nuovo personaggio e forse mi vado a prendere 0 che mi sembra Logan tale e quale degli X-Men tale e quale prova allora parcheggio casuale parcheggio tutti i parcheggio accesso all'inicolo non so uno uno doveva fare il bastardo dai ragazzi che sono super carico però ancora una kill si deve fare bene 10 punti che bello sono un ragazzo felice almeno 10 punti senza fare un cavolo li vai a guadagnare almeno non sei così povero cavolo dai ci sta ci sta ci sta ci sta attenzione uno due alabà ecco come si muove la mia telecamera come alabà del buyer attenzione mi sto avvicinando a qualcuno no non ho identificato nessuno ah perché sta su vabbè raga ci sta l'esercito del ser un piccolo lag va benissimo va benissimo John raggiungete la posizione del contenitore di biorischio allora ragazzi speriamo di andare a uccidere tutti ragà cioè fa così uno scatto bellissimo mamma mia grilletto è difficilissimo da cliccare aiuto ho paura perché grilletto è difficile c'è da premere andiamo di qua calma bene 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 l'oscurità vi ha tradito attenzione attenzione raga è favorissimo dai che uno sta qui su dai con calma aspettiamolo mamma mia mamma mia mamma mia che ansia vabbè ho detto tutte le parole in russo possibile immaginare mamma mia mamma mia mamma mia io tutto piano piano tutto ansia ansia no no vabbè comunque ragazzi ve lo ripeto non sono un top player ma gioco così giusto per divertirmi e per farvi divertire per come mi arrabbio cioè l'obiettivo è questo mio di far ridere la gente non mi dite sei scarso sei zoppo non sai fa niente lo so ragazzi lo so meglio di voi perché io io gioco giusto per giocare per espandere le mie parole le mie parole di felicità felicità cavolo dai mamma mia telecamere tutte rotte dai ci sta questo qua che muore da dietro da dire mamma mia mamma mia raga uno solo uno solo ne dovrete uccidere e neanche lo uccidete uccidilo uccidilo ma che fai perché 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 raga a meno una cavolo di vittoria una non ne chiedo due ma una cazzo una sconfitta totale va bene il video può pure finire qui tanto abbiamo perso e si perde se si perde si perde se si vince si gode ragazzi si gode se si vince cioè chi è che non gode benissimo ho guadagnato un trofeo fai la tua prima partita grazie grazie collezionista collezionista di niente e va bene ragazzi la partita è finita come è finita vabbè ma non fa niente cioè l'importante è che demonio non riesco a vincere una partita ma quello è soltanto un piccolissimo dettaglio va bene ragazzi il video può finire qui noi ci vediamo domani cioè martedì perché questo video verrà caricato domani cioè che è lunedì sera alle 21 mi raccomando vabbè tanto lo state vedendo va bene ragazzi ci vediamo domani con rocket league perché sono super super gasato e poi fra poco uscirà il nuovo season la nuova season nuova stagione nuova come la volete chiamare e ragazzi come possiamo non farlo perché ci sta la formula 1 e poi le macchine fighissime incredibile wow wow proprio va bene ragazzi il video può finire qui noi ci vediamo prossimo video qui con il vostro sedrax alla prossima lasciate un like non mi fa male ragazzi cioè una spuntatina non è che vi uccide tutti tutti coloro che vi sono cari ma mi raccomando un like non fa mai male alla prossima bella ragazzi ciao ciao